Oggi sarò silenzioso, non so manco se definire lo sfogo, sono semplicemente triste, sono semplicemente triste, è una grave mancanza di rispetto, tu non puoi fare un buon primo tempo, calciare tanto importa, crearti le tue occasioni e poi puoi fare quello che hai fatto. Non riesco nemmeno a prendermelo troppo con Mourinho, perché poi che cosa vuoi dire a Mourinho, per quanto ti puoi lamentare, per quanto la squadra possa aver sofferto, tra tre giorni ti giochi una finale che insomma sarà fondamentale, farà tutta la stagione. Però resto basito di come la Roma ogni anno, arrivato a fine stagione, se si rende conto che c'è la possibilità di portare a casa una coppa, stacca la spina. Io non so se vi rendete conto che la Roma è a meno 4 mi pare dal Milan, quarto in classifica e la Roma ha fatto zero vittorie nelle ultime sette partite. Ha pareggiato con Salernitana, Bologna e Monza, ha perso con Fiorentina, Atalanta, Inter e Milan. Cioè la Roma ha fatto tre punti in sette partite, cioè poteva farne 21, ne ha fatti sette, cioè paradossalmente avessimo vinto tutte le partite, vabbè grazie. Potevamo veramente stare a più, per farvi capire, più 17, il Milan ne aveva persa una perché una a 29, quindi 17, 18, 19, più 20 dal Milan dovevamo stare, ovviamente è un discorso del cazzo. Però è per farvi capire quanti punti abbiamo buttato, io resto basito, non è il problema di ieri, anche se ieri pesa tanto la concentrazione. Cioè tu non puoi, tu non puoi scendere in campo, fare 45 minuti buoni, 40 meno buoni, poi gli ultimi 3-4 minuti prendere due gol è veramente da deficienti, è veramente da deficienti. Poi qualcuno me l'ha detto, non dare solo la colpa ai Bagnez, sì che io posso anche non dare solo la colpa ai Bagnez, cioè non toglie che io ai Bagnez non voglio più vederlo. Ma lo ripeto, anche se dovesse fare una finale perfetta, anche se dovesse fare una finale proprio, sapete che vuol dire, stilisticamente da artista, io non lo voglio più vedere. Cioè è un difensore veramente troppo motion, un difensore veramente troppo incapace nel momento del bisogno, quando serve che ci mette una pezza, non c'è mai, quando serve che si deve ergere, che magari esce quel momento crisis smalling e lui sparisce. Mi dispiace ma i Bagnez, poi ne parleremo quando faremo le pagelle, ma è un giocatore che non posso più accettare in una Roma che magari vuole andare in Champions League. E ripeto, chiaramente adesso si proietta tutto sull'Europa League, se tu vinci l'Europa League hai fatto una stagione perfetta, hai vinto una Coppa, fai la Supercoppa Europea, ti fai giocare la Champions da testa di serie, ma se tu perdi l'Europa League, quella è una partita da dentro e fuori, cioè che io adesso do 50 e 50 esatto, 50 al Siviglia e 50 alla Roma, 50 alla Roma e 50 al Siviglia. Do 50 e 50 esatto. E se dovessi pensare a una Roma che però la Coppa potrebbe anche non vincerla perché do 50 e 50 esatto, se tu quella Coppa non la vinci, cosa fai? Cioè cosa fai con Mourinho nella prossima storia se tu quella Coppa non la vinci? Giochi la Conference League? Tocca ringraziare Dio che poi ieri sera l'Inter ha battuto l'Atalanta, perché se l'Inter poi non andava a vincere con l'Atalanta tu rischiavi addirittura di compromettere prima del tempo la qualificazione, un'eventuale qualificazione in Europa League. Cioè, io vi dico la verità, arrivato a questo punto, giunto alla finale d'Europa League, dell'Europa League del prossimo anno, qualora la dovessimo perdere, mi importerebbe relativamente poco. Cioè se tu comunque vuoi prolungare un ciclo con Mourinho, e l'idea che hai è quella di prolungarlo, allora c'è, perché ho letto anche che insomma la Roma starebbe incontrando Mourinho per capire come prolungare il contratto che scade tra un anno, allora probabilmente dobbiamo metterci d'accordo io e te, Roma con Mourinho intendo io e te, e capire che cosa vogliamo fare. Perché un altro anno così sarebbe inutile e perché a me dispiace, voglio bene a Mourinho, ma bisogna anche cercare poi di andare a far benino anche in campionato, non te può non salvare sempre quelle 8-9 partite di Coppa che fai. Poi chiaramente possiamo stare qui a disquisire sul fatto che hai speso 7 milioni sul mercato, però amico mio hai preso Matic, hai preso Vainaldum, hai preso Di Bale, hai preso Belotti, hai preso Llorente, hai preso tutti i parametri zero, ma tutti i parametri zero assolutamente validi. Cioè se dobbiamo parlare di parametri zero, cioè di 7 milioni spesi, parliamo anche del Montengaggi che è salito, perché è fondamentale capire anche quanto poi la squadra ha migliorato come gruppo. Qualcuno mi diceva, vabbè Zic, però cosa ne potevamo sapere di Di Bala se Di Bala non fosse stato così? Regà io ve lo dico da inizio anno, se Di Bala non fosse stato così non sarebbe venuto da noi, o sarebbe rimasta la Juventus se Di Bala fosse stato così, quindi la Juventus avrebbe rinnovato il contratto, o sarebbe venuto dal Barcellona, al Real Madrid, al Paris Saint-Germain, al Manchester City. Purtroppo Di Bala è così, e quindi per fortuna è da noi, però poi Di Bala ti fa quei 10 minuti, quei 15 minuti, poi Mourinho sembra che, ti ripeto, tra tre giorni c'è la finale d'Europa League, quindi a me di Fiorentita Roma non me ne fregava niente, io ero già pronto a perdere, però perde così, perdere che ti fanno due gol in un minuto, personalmente mi girano abbastanza i coglioni, non credete? Facciamo le pagelle, facciamo le pagelle, Svilar 5, non ha fatto in realtà malissimo, che posso dire che il problema di Svilar è che è quello che è, cioè io Svilar sinceramente a Giugno lo cederei, andrei a prendere un altro secondo portiere, a me non dà sicurezza per niente, non voglio affidare il mio futuro nelle mani di Svilar, su entrambi i gol non c'è una sua colpa, ma c'è una sua non uscita, perché se li esci in area piccola fai la voce grossa, la palla la prendi tu, ti prendi magari anche un fallo, perché tanto in attacco fischiano sempre fallo, e oltre qualche magari buona uscita che aveva fatto in precedenza, quelle due non uscite costano due gol della Fiorentina, lì manca di maturità, e quindi 5 a Svilar, 5 lo diamo anche a Missori, allora Missori diamogli tempo, diamogli spazio, vi ho detto pure ragazzi che tocca capire il ruolo di Missori, perché adesso Missori è diventato un difensore, cioè per quale ragione Missori in questo momento è diventato un difensore, ma poi ce l'ha messa anche tutta, nel senso che comunque spesso bloccava Biraghi, non lo faceva grossare, lui sappiamo che è uno dei più pericolosi a grossare, però poi fa quella cazzata su Barak che gli costa il giallo, ogni volta che comunque affondano su quella fascia lo sovrastano, purtroppo non è quello il suo ruolo, non è quello il suo ruolo e quindi c'è veramente poco da fare a mio avviso. Smalling 6, quando Smalling c'è la Roma è un'altra cosa, io continuo a dirlo, continuo a dirlo, quando Smalling c'è dietro non passa, niente, si è messo in tasca a Jovic, gli ha detto guarda dopo quando esco ti libero, quando è uscito l'ha liberato, insomma poi abbiamo preso effettivamente proprio da Jovic, Smalling è un giocatore che in questo momento è fondamentale per la Roma, ha avuto i suoi problemi fisici, quindi poi insomma è dovuto uscire a fine primo tempo, perché 45 minuti aveva nelle gambe e la partita di ieri serviva appunto per fargli recuperare qualche minuto, però voglio di una cosa fondamentale, l'anno prossimo serve un altro Smalling, cioè nel senso Smalling me lo tengo, ma ne serve un altro se vuoi provare in Champions, perché la distanza c'è e si è vista. Mancini 6, Mancini 6 anche a lui, diciamo che lui insomma si incazza, lo sappiamo, è verace, è cattivo, ce la mette tutta, sbroccate qua, sbroccate là, fa il suo, fa un lavoro sporco che a mio avviso è abbastanza proficuo, 6 lo do anche a Llorente, diciamo che visto che ho dato 6 a tutti, cioè 6 a Smalling, 6 a Llorente 6 a Mancini, do 6 più a Smalling, 6 a Llorente sbaglia veramente poco, devo fargli i complimenti, e poi soprattutto spesso mette una pezza salvando Capra e Cavoli, quindi gli va riconosciuto. Ecco io vorrei ripartire anche da Llorente, cioè io penso che la difesa del prossimo anno debba essere Smalling, Mancini, Llorente e prenderne altri due, facendo partire Bagnezze e Kumbulla, un super titolare che quindi giochi con Smalling e con Mancini, con Llorente che di tanto in tanto gioca, e un altro panchinaro che potrebbe, magari esperto, che potrebbe darci un po' di continuità, perché in questo momento secondo me la Roma è veramente tanto indietro sotto il punto di vista difensivo, e lo vediamo ogni volta. Zaleski 5,5, Zaleski 5,5, anche lui visto che siamo finiti con gli esterni c'era tutta paura, giocava proprio, sapete che Vordini punta dei piedi, ogni tanto prende parte e si pappa ai difensori, però comunque quando gioca in fase difensiva è tanto limitato, quando poi viene spostato in avanti, la differenza la fa, io do un 6,5 da attaccante e un 5 da difensore, un 5,5 da difensore, no, un 5 da difensore e un 6 da attaccante, quindi diciamo che è un 5,5 che tutto sommato ci sta, mi è piaciuto 6 meno o meno, quindi mi è piaciuto poco, comunque non pochissimo, ma nemmeno tantissimo, Tajirovic diciamo che ha fatto il suo, anzi facciamo che do 5,5 perché ho il ricordo di un paio di palloni che erano lì, li aveva lì e invece li regala, li perde, è bravo perché comunque sa il fatto suo, si mette sempre bene in campo, però poi una volta che entra Dodonce capisce più niente, se lo perde sogna accelerata, è un ragazzino, va valutato come tale, abbiamo messo in campo una squadra di ragazzini dove praticamente il leader è Bove e dimostra effettivamente di essere il leader, io non lo nego, però se il leader è Bove vuol dire comunque che tu insomma non hai messo in campo una squadra poi così tanta esperta, a Bove do 6,5, a Bove, Bove la sua buona partita la fa, ma anche perché ragazzi avrei dato tutti i voti altissimi se non ci fossero stati gli ultimi 5 minuti, purtroppo tu sei un folle perché tu riesci a perderla in 2 minuti e questa è una cosa impensabile, e Bove fa veramente tanto 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 bene, non si limita al compitino, disegna calcio, inventa, ogni tanto prende il lancio, dà un pallone a Vainaldum che doveva solamente scartare, mettere in porta e non lo fa, lotta, combatte, veramente Bove credo che sia in questo momento uno dei calciatori più indispensabili, uno dei calciatori più importanti della Roma, quindi gli do 6,5, invece do 4,5 a Vainaldum, a mio avviso per distacco peggiore in campo, mi dispiace ma è questo, io capisco che insomma lui debba rientrare in condizioni che è stato rotto tutta la stagione, lo aspettiamo, però mamma mia che schifo ragazzi, manco a far così, veramente manco a far così, sì è vero che fa magari il movimento fatto bene, però poi tira addosso al portiere un paio di volte c'è possibilità, allora fa tanto lavoro sporco, questo sì, magari a centrocampo dà fastidio, poi però palla al piede, sono più quelle che perde che quelle che conquista, una volta spara addosso al portiere, un'altra c'è l'occasione di raccolmancino, ma lui col mancino manco sull'autobus, Giuseppe allora se la sposta sul destro e la tira sulla ghiappa del difensore, e poi sei meno o meno accristante, gioca mezz'ora, fa il suo, poi però la perdiamo, non fa errori, diciamo che è un buon calciatore, che insomma il suo, prova a farlo tutte le volte, sufficienza a Solbaken, sei a Solbaken se lo merita, sei a Solbaken se lo merita, fa bene, secondo me fa benino, tra l'altro lui fa dal pallone del Sharawi per il gol, del vantaggio, del momentaneo vantaggio, fa veramente bene, poi comunque spesso pericoloso, spesso comunque anche perché c'è un momento di testa in cui Martínez IV fa un ottimo intervento difensivo, si abbassa per coprire, si allunga per essere servito, insomma Solbaken fa una buona gara, insomma per essere, per essere Solbaken i Bagnets III, ho dato, più giro per distanza a Vinaldo, dei titolari però, perché secondo me i Bagnets è il peggiore punto, basta, mi sono stufato, è entrato, gli è stato detto, dai dai, dai che ci servi, ma non ci serviva, cioè è assurdo, ogni volta che i Bagnets entri puntualmente sbaglia qualcosa, stavolta sbaglia sul gol del 2 a 1, io penso che lui non debba fare il titolare per nessuna ragione al mondo contro il Siviglia, ve lo dico proprio anticipatamente, guardate la mia squadra contro il Siviglia è questa, Rui Patrizio tra i pali, in difesa Smolling, Mancini e Llorente, poi a centrocampo io ci vedo bene, e Cristante, scusatemi, Matic con Bove per dare un po' di dinamismo, anche se poi insomma non mettere Cristante e Pesere, però Matic con Bove ci potrebbe stare, poi sulle fasce quelli che abbiamo, quindi avremo Zaleschi e Spinazzola, altri non ne avremo, Pellegrini, Dybala, Abram, sebbene io e il Sharawi penso che possa guadagnarsi una bella mezz'ora, per me il Bagnets non deve giocare, per me il Bagnets non è più il titolare di questa squadra, mi dispiace ma accumula, 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 accumula a un certo punto, è così, ha fatto più errori lui quest'anno, ragazzi penso che, penso che Piris, José Angel e Juan Jesús insieme nella storia della Roma, quindi anche basta veramente, e arriviamo a Stefano e Sharawi, 6 e mezzo ma migliore in campo di questa Roma, mamma mia ragazzi, si fa il gol dell'1-0, ma al di là del gol 1-0 crea un botto di occasioni, ma veramente un botto, un paio di volte, due credo Cerefolini ci mette una pezza, una fa proprio un miracolo, con Sharawi tira una botta da fuori aria, è ispiratissimo, io lo dicevo ieri nel video, lo ripeto oggi, mi domando come diamine sia possibile, che la Roma non abbia ancora rinnovato il suo contratto, infatti io dovevo che su Instagram tutti dicevano, rinnovate il Farone, rinnovate il Farone, rinnovate il Farone, ma ci credo ragazzi, ma ci credo, ma in questo momento è un calciatore che serve tantissimo, poi accusa un fastidio, esce, infatti io mi sono cagato addosso, mi auguro che non sia nulla, entra Selic, quindi devo capire se ci sarà ancora, se ci sarà anche a disposizione Selic, perché è un'opportunità giocare con Spinazzolo e con Selic, cioè è un'opportunità che va considerata, ma io a Selic chiedo a 5 e mezzo, secondo me ha fatto una partita da 6 e mezzo, quando gioca Iconè, cioè quando marca Iconè, no, una partita da 6 quando marca Iconè, una partita da 5 quando marca Dodò, con Dodò non ci capisce niente, comunque Dodò è veramente un bel giocatore ragazzi, ve lo dico, nonostante io stia ancora rosicando per ieri, ve lo ammetto con grandi carezze, è veramente un ottimo calciatore, Belotti 6 più, ma insomma fa a lui il pallone a Solbac, che poi da a Sharawi, che per i soldi mio padre comprò, ce la mette tutta, lotta, combatte, quindi va bene così, l'unica cosa è che continua a non segnare ragazzi, è vero che poi tanto l'occasione quella lì vale come un gol, è vero che si fa vedere spesso, però 0 gol in campionato, mannaggia la tua puttana, mamma mia, mamma mia manca ampegnasse, manca ampegnasse, e va bene così, credo che per l'Europa League debba giocare Abram, poi non lo so, c'è tanto tra Abram e Belotti, in Stacchi fa peggio, fa peggio Belotti, ha fatto 0 gol in campionato, però pure Abram, insomma, non è che stia facendo poi così bene, e concludiamo con Mourinho, 5 e mezzo, allora, io penso che se Mourinho avessi potuto perdere, a tavolino avrebbe perso a tavolino, senza troppi problemi, ma in realtà, in realtà fa la squadra che deve fare, l'unica cosa che non ho capito è che, visto che la Roma è partita a 4 dietro, e poi si è spostata a 3, e visto che si è spostata a 3, poi abbiamo cominciato a soffrire, e proprio acqua da tutti i buchi facevamo, non era meglio rimanere a 4, e poi apriamo anche una possibilità sulla prossima stagione, non è meglio forse andare a 4, visto che tanti bagnats, faccio tutto, e tu c'hai Smoling e Mancini, ci avresti impacchiano a Llorente, Smoling e Mancini, Llorente e Cumbulla, o prenderne un altro, e poi avresti comunque Spinazzola, Zaleski, Selic, Karsdorp, un altro terzino lo prenderai, visto che a centrocampo comunque adesso c'hai Matic, ma puoi mettere anche Bovec, istante come Mezzali, c'è Vainaldum, eccetera, non è meglio passare a 4, magari a un 4-3-3, 4-3-3, 4-3-1-2, 4-3-2-1, ecco 4-3-2-1 forse il più adatto, non parlo della finale, parlo in generale, quindi con Portiere, Rui Padresi in Porta, Smoling e Mancini centrali, Spinazzola a sinistra, il terzino destro a destra, Matici in mediana, Vainaldum e Bove, o Cristante, Di Bala e Pellegrini dietro ad Abram, ecco forse bisognerebbe varare anche queste ipotesi qua, detto ciò però fatemelo sapere voi, iscrivetevi al canale, io vi ringrazio, che giramento di cazzo, voce alla lenne come sempre, ci vediamo in un prossimo video, ciao raga!